Gruppo Pongistico Italiano, bentornati, siamo sempre qui con Giacomo Cerela, adesso vi parleremo della DNA Platinum Sponge Extra Hard della Siga. La gomma top di gamma della Siga, arrivata in Italia da due mesi, 52 gradi e mezzo ed al modico prezzo di 50 euro. Una gomma veramente incredibile, consigliata per i giocatori di diritto, specialmente servizi, si sente benissimo la palla, la palla rimane veramente un sacco sulla gomma, da tantissimo effetto, dalla media distanza contro top si sentono benissimo, perdona anche chi non fa i movimenti tecnici perfetti sia di gambe sia di braccio. Una gomma che mi ha veramente stupito, va benissimo per i giocatori sia con apertura di diritto, con movimenti brevi ma anche movimenti lunghi e per i giocatori che giocano in progressione. Veramente una gomma coi fiocchi, consigliata per i giocatori, secondo me dalla quarta categoria in poi, una gomma che comunque ha un costo importante ma è decisamente una gomma top. Esatto, questa gomma mi ha veramente stupito, soprattutto a contro top, perché perdona tantissimo, la palla sta sempre in campo facendo contro top, rispetto all'MXP o gomme un pelo più morbide, comunque questa veramente, sempre in campo. Poi mi piace un sacco quando bisogna lasciare andare il braccio e tirar forte facendo un movimento breve, la palla va veramente potentissima e profondissima e quindi l'avversario fa molta fatica a bloccare, veramente molta fatica. Come vedrete nel video che ho provato a bloccare dei top di David e non riuscivo a bloccarne più di due tre di fila.